Un biglietto con il proprio ricordo legato ad un palloncino bianco fatto volare in cielo all'uscita del feretro. Così gli amichetti e i compagni hanno voluto salutare per l'ultima volta Jacopo Bacis, il piccolo di otto anni, morto sabato notte dopo essere precipitato da una finestra al terzo piano di una palazzina in vicolo della Dea, nel cuore del centro storico aretino. I funerali del bimbo sono stati celebrati questa mattina in cattedrale in forma strettamente privata. Al dolore dei genitori e della famiglia si sono così stretti pochi intimi. Sul sagrato dell'uomo invece tutti i piccoli amici del bimbo. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia di Stato. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo non ipotizzando dunque alcun reato. È stato comunque acquisito il tablet trovato nella cameretta del piccolo. Gli inquirenti adesso stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto sabato notte. Si sta infatti cercando di capire se Jacopo stesse giocando a qualche videogame e se questo possa aver portato in qualche modo alla caduta oppure se sia precipitato per altri motivi. Nessuno assistito al drammatico volo, i genitori e il fratellino in quel momento si trovavano infatti in un'altra stanza. Una tragedia che ha sconvolto l'intera città che oggi si stringe al dolore della famiglia molto conosciuta ad Arezzo. Il padre del piccolo è infatti Michele Bacis, ex allenatore a Maranto ed ex giocatore della Fiorentina e dell'Arezzo.